Navighiamo insieme! Escursioni marittime tra i due mari di Taranto. Il servizio idrovie dell'AMAT invita alla riscoperta della maggiore risorsa di Taranto, il mare. Le traversate in marticola e margrande a bordo delle motonavi Adria e Gloria vi permetteranno di conoscere la città da una prospettiva completamente nuova ed affascinante. Accompagnati da una guida competente, il viaggio si arricchirà di racconti ed aneddoti curiosi ed interessanti. Potrete così scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche e naturalistiche che hanno fatto grande e incantevole città di Taranto. Un viaggio incredibile che non mancherà di emozionarmi. Orari delle corse. Sabato ore 16 e 30. Domenica ore 10 e 30. Tariffa ordinaria 8 euro. Scolaresche e gruppi organizzati, minimo 20, 6 euro. Uso esclusivo motonave, 800 euro. Imbarco piazzale Democrat. Info biglietti presso ufficio abbonamenti AMAT via da Quino 21 Taranto. Telefono 099 452 6785. Apertura ufficio vendite AMAT da lunedì al venerdì ore 7 e 30, 12 e 30. Apertura pomeridiana ore 15, 17 e 30. Solo lunedì e mercoledì. L'elenco dei rivenditori è consultabile sul sito internet www.amat.taranto.it. Nei limiti delle disponibilità è possibile acquistare i biglietti direttamente al momento dell'imbarco. Non mancare, ti aspettiamo!